Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò i miei nuovi acquisti creativi le prime cose che vi mostrerò sono dei charme in bronzo che ho acquistato da Aliexpress e sono questi, dei doni della morte di Harry Potter poi ho acquistato un plotto da queste gandaglie imitatrici della ragazza di fuoco, quindi del secondo Undergames poi, sempre le gandaglie imitatrici però del primo, quella plastica e poi un lotto da 30 di questi connettori infinito poi sempre con lo stesso venditore ho comprato questi schiaccini per chiudere gli charme in poio, i bracciali in poio poi c'è come questo poi dei cinesi ho comprato dei charme da utilizzare con il fimo questi quadrifogli questi teschiotti e questi gufetti poi ho acquistato dei gordini in poio ho preso questo qui beige fatto attreccia questo altro rosso, sempre fatto attreccia questo altro viola e infine, sempre fatto attreccia, questo nero poi, di un altro tipo questo arancione come questo come questo come questo e infine, quest'altro proprio cuoio, cuoio il letto poi ho acquistato delle bustine queste semplici trasparenti e quest'altro più grandi con i cuoricini infine ho preso dei lotti di minuteria in bronzo, sempre ho preso questi moschettoni e poi e poi degli anellini questi che sono abbastanza piccoli e poi questi qui che sono un po' più grandi il video è finito spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao